Nome? Andrea Urbani. Provenienza? Io sono di Fano, provincia di Pesaro, martigiano. Professione? Basticcere. A che età è iniziata la tua passione? La mia passione è iniziata nella culla, perché io sono basticcere da una vita, il nonno, la mia terza generazione di basticceri, quindi puoi ben capire che da quando sono nato ho vissuto con farina, zucchero, uova, latte e quant'altro in mezzo alla famiglia ovviamente. Come sei diventato un Ampi? Ampi sono diventato nel 95 grazie allo stimolo di Achille Zoi, è un carissimo amico che mi ha spinto ad entrare in accademia. Questo qua è un nuovo laboratorio di posizione di 500 metri, è un'attività basata sulla pasticceria nel periodo invernale, molto sul catering per il destino. Abbiamo raddoppiato gli eventi dall'anno scorso a quest'anno per quello che riguarda il discorso del catering e quindi c'è un progetto molto ambizioso dietro, sia legato alla pasticceria o al marchio Guerrino che è stato registrato, sia al discorso del catering, quindi con eventi matrimoni, eventi aziendali e quant'altro. Da quanti anni utilizzi il trittico? Il trittico sono 5 anni che l'ho acquistato e posso garantire che mi ha cambiato completamente la vita. Me lo raccontavano ma non volevo crederci, pensavo che sia una macchina comune, una macchina come tante altre invece che aiuta tantissimo nel mondo della pasticceria, cuoce, raffredda, quindi ti dà veramente una mano. Con questo ho eliminato il discorso dei fornelli, facciamo basi per gelato, tutte le basi della pasticceria che abbiamo fatto con questa macchina, poi l'vantaggio specialmente della crema pasticcera che avendo una pasticcerizzazione veloce, il prodotto dura molto più lungo a livello di carica batterica quasi assente. Quante persone sono presenti nel tuo staff? In questo momento siamo in 11, ovviamente 11 sono quelli in forza fissa per quello che riguarda il discorso della pasticceria, poi ci sono molte persone chiamate soprattutto nel periodo estivo ovviamente per l'aiuto al catering, abbiamo una trentina di camerieri che girano intorno al mondo del catering, 6 cuochi e con aiuto cuochi altri personali insomma addetto al discorso del catering. Quest'anno abbiamo due weekend con 5 matrimoni in contemporanea, quindi la realtà è veramente importante e grazie a Dio anche l'anno scorso abbiamo avuto un weekend il primo così diciamo carico, l'abbiamo superato con successo e quest'anno per chiedere di trovarci. Andrea noi ti ringraziamo per l'intervista, è stato un piacere e in bocca al lupo per questa stagione di matrimoni intensa. Grazie, il piacere è mio, buona giornata e buon istante!